E ancora turismo in Toscana tra scenari attuali e futuri. Questo è il titolo della ricerca IRPET e della fondazione Campus che illustra i dati del 2015 e conferma che la Toscana è una delle mete più ambite per chi cerca cultura e buon vivere. Undicesima regione in Europa per quanto riguarda le presenze che lo scorso anno sono state oltre 43 milioni. La Toscana si conferma una delle mete più ambite per fare le vacanze tra cultura e buon vivere. La nostra regione è l'undicesima d'Europa quanto a presenze assolute e la nona per presenze straniere. Numeri positivi per il turismo visto che il 2015 ha fatto registrare 43 milioni di presenze ufficiali. Il turismo in Toscana anche con la crisi ha dimostrato una forte capacità competitiva per attrarre stranieri e mercati internazionali emergenti. Questi alcuni dei dati emersi dalla ricerca la Toscana e il turismo del centro studi fondazione Campus e IRPET Toscana presentati in regione. Dato fondamentale è che le prenotazioni di vacanze online in Toscana nel 2015 sono raddoppiate. Come ha sottolineato l'assessore regionale al turismo Stefano Cioffo è importante per il settore sposare appieno la comunicazione turistica sul web. Oggi il 65% delle prenotazioni avviene online. Significa immediatamente prendere atto che o ci sei sopra e puoi comunicare e essere riconoscibile o non esisti. Per il futuro del turismo in Toscana secondo le stime della ricerca comunque si può fare e si deve fare di più soprattutto nei servizi, nell'innovazione e nella formazione degli operatori del settore. Puntare tutto quindi sulla qualità dell'offerta. Questo penso sia la sfida fondamentale. Un lavoro più di qualità anche in questo settore per un turismo di qualità. Cioè cercare di mirare bene i nostri target anche a livello internazionale perché la nostra è una regione sicuramente vocata ad attrarre un turismo facoltoso e colto. Grazie a tutti.